Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video direttamente sui grafici perché volevo farvi vedere come l'SP500, i mercati finanziari, dopo questa immissione di liquidità, dopo questi effetti tampone che hanno fatto le banche centrali e tutto quello che è stato fatto per coprire diciamo il problema della pandemia, hanno reagito in una maniera incredibile e completamente in attesa anche ragazzi. Allora, riferendomi al mio primo video quando vi ho mostrato l'SP500 dicendovi che potevamo andare incontro, entro brevissimo a quello che sarebbe stata una chiusura di un ciclo annuale, bene oggi faccio questo video di analisi ciclica, ho davanti a me già lo Standard & Poor's 500 americano per farvi vedere come con molta molta probabilità l'SP500 ha iniziato probabilmente un nuovo ciclo annuale ragazzi. Andremo a fare questa analisi sull'S&P500, vedremo anche il Nasdaq 100 e cercheremo di capire se effettivamente questo ciclo annuale è iniziato, quanto durerà e soprattutto sarà un ciclo annuale rialzista, S&P500 riuscirà di nuovo a superare i suoi massimi storici, tutto quello che era il problema del virus è finito, è passato, siamo già andati avanti, andiamolo a vedere graficamente ragazzi. Allora, vi ho messo quelli che sono i cicli precedenti, ma questo video, questo grafico scusate lo trovate in un mio video precedente, quindi qualcuno di voi magari se lo ricorda, comunque è lo stesso, allora qui abbiamo una serie di indicatori che ci indicano appunto come dal 2016 vedete il tempo, quindi il battito ciclico dello Standard & Poor's 500 è stato abbastanza scandito, sono candele settimanali, quello che ci dimostra questo tipo di analisi, questo vedete è un ciclo non annuale, bensì sono due messi insieme, quello che ci dimostra è che i cicli dello Standard & Poor's 500 sono più lunghi di un classico anno da 365 giorni, quindi sono circa 455 quelli che vediamo qui e in questo caso ragazzi risulta abbastanza evidente che il mercato sul minimo a questo punto, possiamo anche dirlo, del 23 di marzo, il minimo che è stato segnato a 2174 punti ha iniziato un nuovo ciclo annuale, fortissima la reazione, completamente in attesa, fin tanto che eravamo appunto qui nella settimana scorsa ragazzi era tutto lineare, ma con lo spunto di questa settimana ha rotto i massimi delle precedenti tre settimane, li vedete qui e si è avvicinato a quella che è la media a 11, in questo caso una media mobile esponenziale, quindi una EMA a 11 periodi. Da un punto di vista ciclico ragazzi eravamo in attesa di un ciclo probabilmente in close che doveva essere il ciclo annuale e così è stato fatto. Benissimo, allora a questo punto dov'è il problema? Quindi siamo di nuovo in una fase di ripresa, il ciclo precedente che sta appena iniziando diciamo probabilmente porterà SP a nuovi massimi. Attenzione perché vi devo far vedere questo tipo di atteggiamento, questa particolarità. Ragazzi dal precedente 24 di dicembre 2018 il ciclo iniziato a 2300 punti è di natura ribassista perché vedete che ha fatto due minimi inferiori, vedete uno è qui e uno è qui. Quindi questo ciclo ragazzi annuale di S&P 500 è un ciclo ribassista. Ora il problema dov'è? Il problema è ragazzi che se questo ciclo annuale nuovo che ipotizziamo sia iniziato qui ragazzi ancora non lo sappiamo con certezza però abbiamo già tre settimane verdi con questa reazione quindi direi che in linea di massima possiamo già dire che è la probabilità che sia iniziato un nuovo ciclo annuale qui sono veramente molto alte. Solitamente fa vedete atteggiamenti di ciclici diciamo di trimestrali da circa 70-80 giorni quindi in sostanza ragazzi questo ciclo annuale dovrebbe iniziare a darci le primi fasi diciamo di chiusura intorno a giugno ma ipotizziamo diciamo un annuale come i precedenti ragazzi guardate un po' dove va a terminare più o meno a giugno del prossimo anno quindi ancora c'è tanto tanto spazio ma soprattutto potrebbe essere un ciclo annuale che regge esattamente il tempo giusto per portarci alle elezioni del presidente americano a novembre. ragazzi questo è il periodo di novembre ed è qui che vi volevo portare vedete qui questo è il periodo di novembre ora se anche questo ciclo annuale nuovo si è iniziato ancora lo sappiamo ragazzi lo stiamo ipotizzando stiamo anticipando in questo momento il mercato se anche fosse rialzista e scusate se anche fosse ribassista avrebbe comunque spazio di ciondolare magari in questa fascia in questo punto qui quindi per tutta questa durata temporale fino a novembre e poi andare nella sua fase di close magari che potrebbe essere in effetti inferiore con un minimo inferiore al precedente questa è una view che non vi ho mai mostrato ragazzi la prima volta che la guardiamo ed è semplicemente un'idea generale quindi difficilissimo con due settimane appena iniziate stiamo parlando di una view lunghissima ragazzi addirittura più di un anno di distanza quindi immaginate sapete benissimo che sono solo idee assolutamente da non prendere in considerazione per investimenti di lungo periodo ma non do così finanziari ma qualcuno di voi magari potrebbe male interpretare questa questa idea l'analisi tecnica alla ciclica non servono per fare previsioni di due anni ragazzi servono a darci un'idea generale e poi prendere le nostre dovute tecniche di trading o di position per farci capire effettivamente quello che potrebbe essere quello come potremmo diciamo gestire queste cose ragazzi sarebbe una view di rompente perché perché fregherebbe un sacco di persone che ragionano nel lungo periodo in questo caso e quindi sarebbe effettivamente estremamente delicata quindi attenzione io monitorerò il mercato costantemente sul canale quindi iscrivetevi ragazzi se ancora non l'avete fatto proprio per stare a guardare quello che succederà tra le altre cose ragazzi sto iniziando un esperimento ma avrete aggiornamenti a brevissimo su nuovi trading system da inserire nella mia academy relativamente anche mercati old quindi sugli indici di borsa ne saprete di nuove e di ghiottissime news a momenti ragazzi vi farò poi un briefing e quindi se avremo il mercato in pugno avremo il mercato sotto stretto controllo costante per vedere se effettivamente potrà fare una cosa del genere questa view verrebbe meno ovviamente dal superamento di nuovamente di 3400 dollari cosa possibile assolutamente sì vista le reazioni che sono avvenute in queste settimane ragazzi sembra una follia però alla fine è così in questo momento una reazione che c'è stata ragazzi non ha inficiato comunque il famoso abc cioè possiamo ancora assistere ad un trend negativo da un punto di vista di analisi tecnica ma oggi vi mostro solo è unicamente quella che è l'analisi ciclica e quindi non parliamo dei livelli tecnici non c'è un'inversione da un punto di vista tecnico qui ragazzi però impossibile non valutare una reazione dei prezzi di questa entità e poi guardate anche il nasdaq 100 la stessa struttura ciclica anche sul nasdaq 100 ragazzi però c'è da dire una cosa mentre s&p 500 ha fatto un ciclo vedete ribassista che si è chiuso dalla dicembre 2018 al marzo 2020 ma è ribassista ragazzi lo vedete perché i due minimi sono ribassisti il nasdaq 100 no ragazzi il nasdaq 100 è riuscito a non fare un ciclo ribassista ma nonostante il crash dovuto alla pandemia il ciclo resta vedete rialzista sul nasdaq 100 incredibile ma è così quindi in questo momento se nasdaq 100 come s&p ha iniziato un nuovo ciclo di natura annuale che dovrebbe essere iniziato appunto qui anche lui avrà diciamo la sua struttura conclusiva più o meno verso ma giugno marzo insomma il trimestre da marzo in poi del 2021 e questo dovrebbe essere la sua struttura anche qui avremo uno stretto monitoraggio del nasdaq 100 quindi titoli tecnologici ragazzi per dirla tutta questa fase ci indica un'inversione al momento no ma se la ciclica confermerà questo inizio di un ciclo annuale ci sarà di divertirsi ragazzi perché in realtà il nasdaq potrebbe di nuovo tentare di rompere i massimi precedenti e poi magari andare a ritracciare per la close facendo una cosa del genere mentre s&p in sostanza con un ciclo annuale di bassista è leggermente più debole ha una view più debole ve la faccio rivedere quella invece sul nasdaq 100 potrebbe essere addirittura ragazzi di alzista quindi vedete il ciclo ribassista annuale dello standard e pors mentre è rialzista quello di nasdaq 100 ragazzi incredibile i mercati cosa fanno anche quelli hold la view su bitcoin invece ragazzi bitcoin è ancora debo luccio anche se ha reagito abbastanza ma lo vedremo in un prossimo video per oggi è tutto ragazzi lasciatemi un mi piace se vi piacciono questi video e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ciao a tutti